In un'atmosfera da sogno, Rachele Penello è stata la madrina del Nation Awards che si è svolto a Cassagredo, a Venezia. Rachele Penello è appena stata eletta Miss Aurora 2022, indossava l'abito realizzato apposta per lei dallo stilista Giovanni Marigo. Alla serata protagonista in Laguna c'era anche Manola Tabacco, patron di Miss Aurora per MT20. Nel corso della serata sono stati premiati molti artisti come l'attrice Anna Safroni che è impegnata nel sociale con la raccolta fondi per i farmaci destinati ai bambini ucraini. Tra gli altri anche l'attore Marco Leonardi e il regista Peter McDonald premiato da Michelle Curatolo, presidente di Eventau che ha organizzato l'intero evento.